È incredibile questi fiori, questa vita che sto scoprendo alla mia tenera età, all'età diversamente giovani. La campagna, le ocche, la contemplazione, la lettura, far entrare il silenzio dentro di me per poter poi trovare altre parole, quelle che sarà utile trovare quando usciremo da questa emergenza e che dipende solo da tutti noi che sia breve. Per cui ubbidienza, per una ribelle come me, dire ubbidienza è molto forte ma è molto chiaro per me quanto dobbiamo pensare alle persone che si stanno battendo come dei leoni nelle ospedali e anche quelli che si battono per respirare. Io ho dei problemi polmonari e so cosa vuol dire non respirare, è terribile. Allora per aiutare tutti eccoci qui a scoprire nuove forze, nuove vite, nuovi profumi e sarà un'opportunità inaspettata, un'occasione che io non avrei mai immaginato di diventare una campagnola. Io dico sempre per un teatrante non avere il teatro è come per un contadino non avere la terra. Ecco adesso io divento un contadino con la terra e mi auguro che questo finisca presto e che noi usciremo da qui cambiati ma meglio per saper trovare le parole giuste a gente che avrà passato un momento un po' speciale della propria vita. Ecco buona scoperta.